Heliograph vi presenta il nuovo UV LED, che potenzia i sistemi di stampa con macchinari sempre più avanzati ed ecosostenibili. Realizziamo stampe per aziende e privati su svariati oggetti, come penne e altri gadget, in diversi materiali come plastica, vetro e metallo. Prodotti originali per ogni esigenza creativa. Venite a conoscere le nostre proposte su misura per voi. Heliograph. Stampiamo tutto, su tutto.